Prima una premessa, io sono un uomo fortunato perché ho degli amici che mi vogliono vederlo e non me lo merito, ma non me lo frega un cazzo, me lo ritengo lo stesso e poi c'è questo che non ha titolo, potremmo chiamarlo a modo il mi settimo visto che lui ha citato il salentino e questo è il mare dal quale non posso decidere di emergere o affondare come navigarlo senza sognare una prode, ma non ricordo la meta, smarita me la fanno, resta solo il navigare Grazie